Dylan Dog Color Fest numero 40 Tre storie inedite e complete dal titolo Estreme Visioni Sono d'accordo Wobalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo Bentornati nella rubrica dedicata a Dylan Dog E bentornati nel Color Fest trimestrale Che ci sta dando tantissime gioie Il trimestrale è una categoria fuori continuity Dove ci sono delle storie che possono essere parte della continuity Oppure no, non è quello l'obiettivo Principalmente la differenza è che appunto sono colori Ma sono anche le storie più sperimentali di Dylan Dog Per il numero 40 che però vi ricordo doveva essere il 39 Il 39 doveva essere il 40 Abbiamo queste visioni, come dice il sottotitolo stesso, davvero estreme La prima è di Officine Infernali al secolo Andrea Mozzato La seconda è di Spugna e la terza è di Jacopo Starace I titoli sono La colazione dei campioni, La casa dello splatter e Il teatro dei demoni Queste visioni sono così estreme che persino Tiziano Sclavi si è scomodato a scrivere due righe Prima di cominciare se ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale Di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega Di condividere il video con tutte le persone che hanno delle estreme visioni E di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero Se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se vi è indignato, se vi ha scandalizzato E comunque in ogni caso qual è delle tre storie Quella che preferite di più o quella che preferite di meno Fatemi sapere, fatemi la vostra personale classifica Vi ricordo sempre di seguirmi anche sugli altri miei social Tra cui Instagram e Twitch dove con tutta probabilità Giovedì 17 faremo una live a tema Dylan Dog Dove toccheremo appunto il Color Fest, la serie regolare e l'Old Boy Che questo mese cadono tutti e tre nello stesso mese appunto Quindi c'è questo allineamento di pianeti che non capita sempre Ne approfittiamo per una bella live insieme Per chi mi segue sapete che io sono conosciuto nel Conosciuto si va per dire Per parlare di Dylan Dog in base all'esperienza che vivo quando lo leggo E quindi alle chiavi di lettura che ne trago E vi racconto un po' la mia opinione Sulla diciamo sull'argomento che io intravedo Nel appunto nel numero Qua che appunto le storie sono tre Non c'è una grande chiave di lettura profonda Che mi fa pensare a chissà quale argomento particolare Sono delle storie molto semplici dal punto di vista narrativo Il messaggio non è un secondo testo, non è un sottotesto È bello, chiaro e semplice Quello che vogliono dire lo si capisce al volo La parte sperimentale è tutta nel come viene narrato il messaggio di Laniato Il messaggio di Laniato è chiarissimo Tutte e tre le storie hanno il tipico Come si chiama? Il tipico andamento di Laniato Quindi il mostro che non è per forza il mostro Diciamo plot twist finale Le cose che non sono sempre quello che sembrano Che si rivoltano verso di noi Ecco, tutte e tre seguono questi stilemi di Laniati In modo molto rigoroso Ma stravolgono il modo in cui ce lo raccontano La prima storia soprattutto Che si chiama La colazione dei campioni Mostra un Dylan anche totalmente stravolto Anche nella forma, nell'aspetto fisico Vediamo un Dylan più grosso, più muscoloso Ma anche più sconfitto dalla vita Mi sembra una versione estremizzata del Dylan Dog 666 Un Dylan Dog che non ne può davvero più Che è stato sconfitto, diciamo Da tutto quello che ha vissuto in questi 30 anni di storie di Laniate Ha un rapporto di sfottò reciproco con il suo assistente Che non è Graucio ma si chiama Dalia Quindi cambia totalmente anche l'assistente È come se fosse scontato che ci sia quest'assistente Non ci viene presentato il perché, il per come, perché c'è lei al posto di Graucio Assolutamente no C'è semplicemente questo camion, questa comparsa dell'assistente Che fa pochissimo Perché la storia è incentrata principalmente su Madame Trenkowski Che ha un aspetto grafico davvero inquietante Sembra uno spettro È disegnata da Dio Mantiene comunque il suo aplomb tipico di Madame Trenkowski Che ogni tanto appunto che si presta diciamo al tenore che c'è in questa storia Ha delle cadute di stile dove usa dei termini un po' Delle parolacce che la Trenkowski non userebbe Anche lei diciamo si chiede perdono se usa questi termini Però sta nel personaggio tranne nel finale dove appunto vediamo una Trenkowski Che grazie alla magia ringiovanisce persino E diventa diciamo la nuda del mese La compagna di Dylan Dog in questo numero E non è una compagna di sesso a caso Come a volte magari capita nella serie regolare Ma è atta anche al finale della storia Dove in un certo senso almeno io ci ho capito questo Pare che la Trenkowski abbia o utilizzato Dylan per imprigionare L'entità del cubo nel suo corpo Oppure in un certo senso la Trenkowski stessa sia in qualche modo entrata nella coscienza di Dylan Una cosa molto importante e assolutamente non scontata Che tutte queste tre storie sono delle persone che ho citato prima Sia nella sceneggiatura sia nel soggetto sia nei disegni nella colorazione Sono autori completi che hanno creato una loro storia a tutto tondo Quindi appunto il primo era Officine Infernale Il secondo è Spugna Si cambia totalmente lo stile Molto più cartunesco Ecco vi do giusto due sfogliate Se il primo io lo definirei magari sbaglio e correggetemi Molto street art Molto Molto rock Molto anni 70 Tant'è che anche il nemico appunto è un È un biker anni 70 E tutto questo stile ricorda molto una certa visione di quegli anni Mi ha ricordato anche molto molte copertine punk Molte copertine rock dell'epoca Di molti vinili o musica 7 se preferite Mi ha ricordato molto questo stile Invece nel secolo Ecco anche questa sembra proprio una fantastica copertina psichedelica Negli anni 60-70 Questa doppia splash page Mi ha ricordato anche E ve la butto lì così Ve la butto così gratuitamente Mi ha ricordato anche un possibile King's Garden Se lo colorassero Ve lo metto qua sotto in descrizione Il link così capite di cosa sto parlando Mentre nella seconda storia Invece Lo stile è molto più cartunesco Ma non certo un cartone animato per bambini Mi ha ricordato molto quei cartoni animati Tipo Rick e Morty Ma anche allo stesso tempo Quegli artisti dove tutto è splatter e tutto è fluido Vi dimentico sempre il nome di quell'artista spagnolo se non sbaglio Dove tutto si mischia Vedete anche questo Questo dogman food viene assorbito dalla mano di Dilan Dog È tutto molto nonsense Ma la bellezza sta anche proprio in questo Questo secondo numero tra l'altro è anche un numero nafsed Cioè è un numero dove non ci sono dialoghi È tutto un'opera visiva Persino quando si devono parlare La ragazza in questione non dice Dilan Ma noi vediamo la foto di Dilan E capiamo da quello che sta chiamando Dilan Plot twist finale La ragazza è anche il mostro Ma soprattutto per come viene svolta l'azione Sembra quasi di far parte di un videogioco Perché Dilan Dog sta combattendo dei piccoli mostri Poi trova questo cibo per cani Questo dog food Diventa più potente Sconfigge il mostro finale E va dalla bella di turno per salvarla Suona molto come un videogioco Tant'è che nel finale appunto è un videogioco Giocato da alieni che parlano una lingua molto strana Mi ha ricordato anche quel numero sulla babele Delle lingue particolari Lassù qualcuno ci chiama Da come hanno scritto questa lingua aliena Il terzo numero invece La terza storia È ambientata appunto in un teatro Lo capiamo sia nella forma Che la scena è quasi sempre la stessa Le risate in sottofondo Dilan non si rende conto A differenza di un Deadpool Che è perfettamente cosciente di far parte Dell'opera in cui è inserito Dilan non si rende conto Del motivo per cui sente queste risate Non si rende conto di essere parte Di uno spettacolo Di un teatro Dilan ha a che fare con un paio di clienti Uno sembra un vicino di casa Poi arriva un cliente Che pare essere un regista Che gli spiega fondamentalmente Aiutandolo a vedere con i suoi occhi Che lui fa parte di uno spettacolo Il teatro appunto Il teatro dei demoni In questa fantastica doppia splash page Dove Dilan finalmente si gira Verso la quarta parete E nota che tutti lo stanno deridendo Tutti lo stanno insultando Perché appunto Il teatro dei demoni Anche c'è una piccola metafora Sul fatto che Nella società di oggi Siamo tutti molto esposti Siamo tutti i protagonisti Ci sentiamo Tutti i protagonisti Della nostra storia Del nostro social E il pubblico è sempre molto crudele È un pubblico appunto di demoni Finale dove Dilan appunto Si risveglia E colpisce Graucio Dilan si ricorda vagamente Quello che gli è appena successo E Graucio risponde Ma sì insomma Dilan Cosa credevi? Di essere vero? Come se Graucio appunto Fosse cosciente Di essere un'opera di finzione Dice che siamo tutti attori Siamo tutti attori Di questo teatro Il teatro si vede Nella splash page finale Con tutto anche il Diciamo Quello che c'è attorno Alla scena E si mostra perfettamente Come anche Tutti gli intarsi Legno Sia sopra che sotto Siano Molto demoniaci Che dire Tre storie davvero Che ti stravolgono L'unica pecca Perché appunto Si è qui per Per parlare assolutamente Se devo proprio fare una pecca È che La bellezza Di queste storie È anche data dal fatto Che sono opere visive Principalmente Prima che opere Da leggere Quindi Si divorano in fretta In meno di mezz'ora Si legge questo Questo numero Io me la sono anche Tenuta abbastanza lunga Ho letto Prima una storia Con molta calma Poi ho sfogliato Sfogliato Perché la seconda Non si legge Ho sfogliato la seconda E poi ho letto la terza Però ecco È talmente rapido Che l'esperienza Ti fa rimanere Un certo senso Di vuoto Perché dici Cavoli Tutto qui Ho speso 5,90 euro Ecco Io spero Che questa Non sia magari La mia paura E che sia un po' Questa L'opinione Dei Dei detrattori Del Colorfest In questo In questo mese In questo trimestre Ecco Questa è la mia paura Però devo dire che Sono comunque Tre opere Che meritano Se posso Fare un appunto Queste tre opere Sarebbero perfette Per essere Inserite anche In un contesto Digitale So che la Bonelli Non è pronta Perché adesso Non prendiamoci in giro La Bonelli È un po' indietro Dal punto di vista Digitale Queste tre storie Soprattutto La terza Per come È È creata A livello di tavole Queste tre storie Sarebbe bello Ficcarle in un contesto Digitale Anche in quelle app In quelle piattaforme Che adesso mostrano I fumetti In modo digitale Magari inserire Dylan Dogg Nel nuovo mondo Digitale Dove i ragazzini Leggono sostanzialmente Dei manga Fatti male Sarebbe bello Ficcare Roba come questa In modo che anche Le nuovissime generazioni Non le nuove Le nuovissime generazioni Inizino un po' A masticare Le estreme visioni Che Dylan Dogg Può avere Per poi Riconfluire il pubblico Magari nella serie regolare Piccolo suggerimento Alla Bonelli Recchioni Dimmi tu Fammi sapere Io conto su di te Un po' più Un po' più social Quindi fammi sapere Io come sempre Vi ringrazio Per avermi seguito Fino a qui Con l'inchino e con l'imbuto Vi saluto Vi dico che Questa volta Questo bimestre Ho ricominciato a prendere Anche l'old boy Perché la copertina Mi ha finalmente intrigato La copertina E i titoli Stavolta mi hanno intrigato Quindi Leggerò l'old boy Uscirà la recensione Giovedì 17 La sera faremo la live Su Twitch Quindi State sintonizzati E di nuovo Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti